Ringrazio molto. L'idea che siamo fatti come tutti, perché la nostra risposta nazionale è passata molto per l'affermazione dei grandi mani del mondo, perché anche la nostra percezione in Italia è passata allo cittadino. Siedermi, noi siamo arrivati in un palco, e per raccontarci un po' anche che abbiamo studiato, la storia d'Italia, che è un po' raccontato di vita e raccontato da una cosa di storia d'Italia, e anche provando ancora a stare studiati su un po' che non operare con queste debolezze che ancora restano per risolvere. Grazie.